La prevenzione! Questo test serve a prevenire i tumori del colon. Basta mettere un campione di feci qui dentro e spedirlo. Obbedisco! Oggi è possibile prevenire il tumore del colon retto con un test delle feci facile e gratuito. Se hai fra i 50 e i 70 anni riceverai il kit direttamente a casa tua. Dottoressa, ho fatto la cacca e l'ho spedita. Devi dire feci. Feci la cacca e l'ho spedita. Prevenire i tumori in Puglia è ancora un diritto. Sarà questo l'argomento della puntata di oggi. Ne parliamo con le lavoratrici e i lavoratori di questo centro screening regionale che è un servizio a rischio. Voi nel dettaglio di cosa vi occupate? Allora, noi siamo dipendenti dell'Agenzia Regionale Sanitaria. Costituiamo il centro screening regionale. Siamo collaboratori amministrativi e assistenti sanitari che dal 2011 hanno superato una regolare selezione pubblica per lavorare in questo centro che si occupa di prevenzione. Qual è il principale problema? Il principale problema è che c'è stato un cambiamento di rotta con l'ultima delibera che è stata emanata soltanto qualche settimana fa con la quale espressamente hanno riportato il servizio nelle mani delle Asle. Quindi inizia il servizio in mano alle Asle, poi passa al centro regionale, quindi viene unificato per ritornare nuovamente alle Asle. C'è un rimpallo continuo, mi pare di capire. Esatto. In più l'unificazione, quindi la centralizzazione del servizio era un progetto nobile, magnifico, considerando che molte regioni dell'Italia hanno un modello centralizzato che funziona benissimo. Quindi lo scorso anno, nel 2013, è stata emanata una delibera con la quale si cercava di riorganizzare il servizio, di renderlo migliore, sempre a livello centralizzato. Quest'anno questa delibera è stata annullata. Il problema principale è che in questa delibera non viene contemplato in alcun modo il personale. Personale qualificato, personale che chiaramente ha eseguito mille formazioni rispetto alla gestione del servizio e quindi ad oggi noi non sappiamo, tra un po' di tempo, quindi alla scadenza del nostro contratto, che fine faremo. Attivati nel 2007 su tutto il territorio regionale, gli screening oncologici sono dei programmi di prevenzione garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale dei tumori al seno per donne dai 50 ai 69 anni, al collo in retto per uomini e donne tra i 50 e 70 e al collo dell'utero per donne tra i 25 e i 64 e inseriti fra i livelli essenziali di assistenza. Il sistema di screening, che offre gratuitamente prestazioni di assistenza sanitaria a persone asintomatiche rientranti nelle fasce d'età più a rischio di tumore, contattate attraverso lettere di invito alla prevenzione, oggi rischia di saltare, a causa di un inconcludente dialogo politico-istituzionale che non assicura la continuità del servizio e di conseguenza nemmeno la continuità occupazionale dei dipendenti del centro. Vorrei precisare il fatto che alla prima scadenza del nostro contratto, quando il numero verde ha cessato comunque di funzionare, abbiamo avuto un sacco di persone che ci hanno chiamato con richiesta di aiuto, cioè di non chiudere il centro, perché si sentivano abbandonati a loro stesse, non sapevano come continuare, anche il percorso, proprio il follow-up dell'esame, diciamo che può essere citologico, mammografico, oppure anche il colon retto, comunque dei percorsi fondamentali dove sia la donna che l'uomo si sentono anche rassicurati e tutelati dal nostro supporto proprio sia sanitario anche dell'informazione. Se il servizio sarà interrotto non solo i cittadini pugliesi saranno privati di prestazioni gratuite che spettano loro di diritto, ma anche i dipendenti del centro che già da anni vivono una situazione di precariato lavorativo saranno definitivamente senza occupazione. Assisteremo così ad una inesorabile retrocessione culturale. Grazie allo screening non dimentichiamoci che gravi forme tumorali sono state tempestivamente diagnosticate e curate. La Puglia sembrava all'avanguardia quando è nato questo servizio. Adesso invece che cosa non ha funzionato? Un rimpallo di responsabilità tra istituzioni, politica. Questo servizio rischia di saltare, ne vanno di mezzo i lavoratori, che fine faccia non si sappia, ne va di mezzo la salute della popolazione. La CGL che posizione ha preso? Allora, la CGL da sempre ha seguito i lavoratori in questo percorso. Siamo stati protagonisti insieme ai lavoratori a giugno protagonisti di una vertenza anche rumorosa perché questo servizio potesse continuare e potesse continuare esattamente in queste condizioni cioè con il modello centralizzato, quello del centro regionale screening. Siamo riusciti a giugno a ottenere sostanzialmente la proroga di questi contratti e un rinnovo rispetto alla bontà di questo modello e oggi, da qualche settimana, abbiamo appreso che la Regione Puglia sostanzialmente ha deciso di cambiare questo modello facendo un passo indietro. Ma se si cambiasse questo modello, che cosa ci sarebbe di negativo? Si ritorna di nuovo nelle mani delle ASL che hanno delle lacune perché il modello centralizzato è migliore di quello dislocato? Sicuramente in altre regioni, come già hanno detto i lavoratori, questo modello ha funzionato perché è stato impostato bene. Quindi oggi, che si fa un passo indietro, non è possibile addossare la colpa ai lavoratori ma sicuramente ci sarà la responsabilità di qualcun altro più in alto dei lavoratori rispetto ad un potenziale malfunzionamento di questo centro. Io credo che il centro debba continuare esattamente così ma soprattutto credo che non sia corretto fare delle scelte politiche in controtendenza rispetto a quelle che hanno riguardato determinati accordi con le organizzazioni sindacali senza informare e coinvolgere le organizzazioni sindacali. E allo stesso tempo, diciamo, sono incredulo rispetto al fatto che in questa regione, nella Puglia migliore di Vendola una delibera di questo tipo non tenga assolutamente conto di quello che è il futuro dei lavoratori. Avete visto la prima puntata di Work in Progress abbiamo scelto questo titolo proprio perché si tratta di un lavoro in continua evoluzione infatti torneremo a parlare del centro screening oncologico regionale così come di altre situazioni, di altre avvertenze proprio perché chiederemo ai datori di lavoro alle istituzioni di darci delle risposte. Potete seguirci sul nostro sito internet www.cgelebari.it ma anche sul nostro canale YouTube, su Facebook e Twitter.